Ehi Gioia, come stai? Sì, me l'hai detto, me l'hai detto. Sei riuscito a riposare un po'? Un pochino? Sono contenta. Ho cercato di creare un po' un'atmosfera calda e confortevole per te. Infatti, hai fatto assolutamente benissimo a venire qui da me. Abitando un po' fuori città c'è meno caos ed è più facile riposarsi un pochino al pomeriggio. A parte i cani e i vicini, però dai. Infatti non è terribile. Comunque, dimmi un po' che descrivimi un pochino il tuo mal di testa, perché sai, io anche ho sofferto di mal di testa per tanto tanto tempo e quindi qualcosina hai imparato. Ok, quindi praticamente qua, ok, unilaterale, ok, quindi ed è anche, diciamo, alternante. Allora, penso proprio sia emicrania ed è un dolore pulsante oppure, diciamo, più costrittivo o lancinante. pulsante, ok, 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 allora sì, penso proprio sia emicrania, sicuramente. Mi hai detto che avevi anche un po' di nausea stamattina? Sì, allora sicuramente è emicrania. Comunque la nausea va un po' meglio almeno. Ok, mentre tu riposavi, io ho portato un po' di cose per te, per cercare di aiutarti. Sì, sai che praticamente ho una farmacia in casa io e poi ho un sacco di rimedi naturali anche e quindi farò tutto, tutto, tutto il possibile per cercare di farti stare un pochino meglio. E magari anche rilassarti un pochino così poi, tanto direi che tra poco puoi anche provare a dormire. Ecco, quindi sì, ti rilasso e così crolli, speriamo. Prima di tutto, no, mi devi dire innanzitutto quanto hai bevuto oggi perché spesso il mal di testa è semplicemente dovuto a una disidratazione. Ok, allora non è sicuramente sufficiente, infatti ti ho portato dell'acqua che tra poco ti do, ma penso che la tua emicrania sia più dovuta a questo periodo un po' stressante che stai passando. Ti capisco, ti capisco, allora direi di metterti questo impacco freddo che non è troppo freddo, l'ho lasciato in frigo, non in freezer. E questo te lo metterò diciamo ogni mezz'ora e questa diciamo crioterapia dovrebbe alleviare un pochino soprattutto questo dolore pulsante. Quindi te lo vado a mettere un pochino sulla fronte e te lo tengo appoggiato un pochino senza premere troppo ovviamente. E vedrai che dovresti già sentire un po' di sollievo tra poco. Lo senti già? Meno male, se io solitamente appena mi viene mal di testa vado a mettermi qualcosa di freddo sulla fronte e mi da subito sollievo. Poi tra poco te lo tolgo e ti do qualcosa da bere. Comunque sai che praticamente tutti mi chiamano quando stanno male perché sanno che io mi prendo molto 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 cura delle persone, soprattutto quando stanno male. Invece io quando mi ammalo rimango sola. Sì sì. E vabbè. Sola con il mio cane. Che mi spacca le ossa, letteralmente. Comunque vedrai che con questi miei metodi ti sentirai meglio. Sono sicurissima sicurissima sicurissima. Il freddo come va? Il freddo come va? È troppo? Ok, allora direi te lo tengo ancora fino... Beh, contiamo fino a 30. Che ne dici? Allora, aspetta che cambio la mano. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. 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 ventotto, ventinove, trenta ok allora ti do subito un bicchiere d'acqua perché devi bere ecco qua, si te lo lascio qua sul comodino ok e poi quando finisci di bere quella ti do anche un aspirina con vitamina C ok 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 che bel suono questo vero? molto rilassante ok 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 quasi ipnotizzanti queste bollicine ok ti metto anche questa sul comodino e mi raccomando devi berlo tutto e ovviamente l'aspirina dovrebbe aiutare col mal di testa mentre la vitamina C beh ti do qualche informazione visto che sono fresca dall'esame la vitamina C è un potente antiossidante assieme alla vitamina E compatte i radicali liberi nel nostro corpo poi ci protegge dalle infezioni infatti per questo viene assunta quando abbiamo un raffreddore l'influenza eccetera è coinvolta nella sintesi del collagene quindi anche per la pelle fa bene aiuta nella riparazione dei tessuti nella rigenerazione dei tessuti e poi è importante perché serve ad assorbire meglio il ferro quindi ad esempio gli spinaci vanno messi con un po' di limone sopra e basta mi sembra una carenza di vitamina C provoca lo scorbuto che però ormai è una una malattia molto molto rara e ok ah volevo anche dirti che il il cioccolato comunque in generale la caffeina che è contenuta nel cioccolato oltre che nel caffè e nel tè può aiutare con il mal di testa sia l'emicrania sia le cefalee e perché va a contrastare l'azione di quelle molecole che causano vasodilatazione e che quindi sono coinvolte nella nella sensazione di dolore alla testa quindi direi che ti do un pochino di cioccolato allora sai che qui in casa c'è sempre un'ampia selezione allora ti posso offrire questo che è fondente ma in realtà sono tutti fondenti questo è fondente con le nocciole buonissimo questo veramente poi questo è sempre fondente con però il lampone e granella di mandorle ok e questo invece è con il pistacchio super buono nocciole immaginavo non penso siano nocciole piemontesi sai che sono un po' fissata allora si non dice se sono piemontesi ah no aspetta aspetta cioccolato fondente nasce così nell'assomenimento no niente beh eccellenza del territorio no sai che forse sono forse sono piemontesi allora te ne do un pezzettino ecco qua ecco qua ok vai vai apri la bocca oppla ok altra cosa che potrebbe aiutare è il magnesio che aiuta in tutti i tipi di mal di testa ed è contenuto in abbondanza nella frutta secca quindi se vuoi dopo che hai mangiato il cioccolato puoi sgranocchiarti un po' di mandorle noci anacardi ok certo sì sì gustati pure il cioccolato e beh io queste te le lascio qua forse ci sono anche delle uvette vabbè poi vedi tu ok ok allora adesso ti metterò un'altra cosa fresca però sarà un panno umido e te lo lascerò sulla fronte per un po' va bene? sì tu fidati di me io ormai queste tecniche sono state ampiamente ampiamente confermate e approvate da tutte le persone che ho curato ok ok no scherzo mi sono dimenticata di darti la tisana perché è molto importante che tu stasera riposi e che dormi bene e quindi direi che che ti do una camomilla in realtà è un mix di camomilla e valeriana ok allora senti che bel suono questo vero? vero? ok non riesco ancora a sollevare le cose con il polso sinistro facciamo con questo ok che buon aroma allora questa te la lascio che adesso è molto calda te la lascio qui di fianco e la sorseggi pian pianino così ti concilia il sonno adesso ti preparo il panno ok ok bello fresco ci ho messo anche una goccia di olio essenziale di lavanda così ti rilassa ancora di più e lo so dove la trovi un'altra amica come me allora aspetta che era troppo pieno d'acqua sentiamo un attimo sto togliendo l'acqua in eccesso ok allora te lo vado a mettere sulla fronte intanto te lo tampono un pochino delicatamente sulla fronte senti che sollievo vero? ok ancora un pochettino e adesso te lo lascio sulla fronte ok per non so qualche minuto vediamo allora facciamo un dico oppla com'è così? sì così non ti copri gli occhi esatto perfetto ok per rilassarti ulteriormente penso che ti farò un po' di face brushing lo so che ti piace tanto ho poi questi pennelli molto carini e dunque entrambi sono molto morbidi non so quale preferisci questo? ok allora ti faccio un po' di carezze con questo e poi ti pettino un po' i capelli e ti faccio un pochino di massaggio al cuoio capelluto figurati sai che mi fa sempre piacere allora aspetta che sollevo un pochino il panno così posso carezzarti la fronte così ok ok allora partendo appunto dalla fronte delicatamente faccio dei movimenti lenti orizzontali così avanti e indietro senti la morbidezza delle sedole che delicatamente sfiora la tua pelle magari ti vengono dei brevidini lungo la schiena potresti sentire la testa qua dietro che formicola un pochino a me succede spesso adesso lungo il lato sinistro del viso quindi la tebbia un po' la guancia lungo la mascella andando anche un po' verso l'orecchio che è super super sensibile facendo sempre movimenti molto molto delicati lenti 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 e poi passiamo al mento avanti e indietro sul mento ancora un pochino la guancia sinistra queste belle belle guanciotte poi il naso ovviamente non bisogna mai dimenticarsi del naso passiamo al lato sinistro del viso quindi la tempia la guancia poi verso l'orecchio anche verso l'orecchio un pochettino lascia di rilassare da questa delicatezza incredibile senti anche che l'attenzione che avevi a livello della testa pian pianino si sta rilasciando sei più sereno una cosa che piace tanto in realtà a me è anche sugli occhi proprio super 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 delicatamente vuoi? ok chiudi diciamo prima l'occhio sinistro appena 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 che sfiora ok e poi l'occhio destro vediamo un attimo qua la il panno sì direi di metterci ancora un po' d'acqua a sì direi di togliamo un po' l'acqua in eccesso e vado solo a farti patpattere poi te lo lascio, no non so se te lo lascio perché volevo farti un po' il massaggio al massimo te lo rimetto dopo quindi vado anche vicino alle tempie a picchiettare questo panno umido fresco con la lavanda facciamo bene questo lato qua che magari è un pochino lungo il collo che può dare un po' di sollievo e poi questo lato qua destro picchiettando piano senza premere tanto ok così perfetto adesso ti rilasso ancora un pochettino con il... non mi viene mai in italiano il pettine ok ho qui il mio magnifico pettine di legno e andrò soprattutto sulle lunghezze così a pettinare allora partendo da questo lato qua è veramente molto rilassante e calmante sì poi quando stai meglio possiamo uscire possiamo andare a fare qualche gita magari in montagna o anche al mare adesso però per andare in Liguria c'è un traffico pazzesco per tutti i lavori in corso quindi magari meglio la montagna se vuoi anche possiamo andare in giardino a dipingere infatti è proprio un'attività che almeno a me coinvolge totalmente sono totalmente immersa nel momento ci sono un po' di nodi spero di non farti male facciamo l'altro lato facciamo l'altro lato devo farti poi un trattamento ai capelli sono molto nodosi quindi domani sicuramente starai un po' meglio e poi decidere tu cosa vuoi fare ci sono anche tante mostre interessanti a Torino quindi se vuoi possiamo andare a vedere una mostra ok adesso ti faccio un massaggino con questo rastrellino che è incredibile veramente allora partendo da qua sopra si molto piacevole poi devo assolutamente portarti a sciare sai che ho iniziato quest'anno con lo sci alpinismo e ti dico io io detestavo lo sci tanti traumi da piccola tanti tanti traumi però effettivamente almeno con lo sci alpinismo è proprio un modo per scoprire la montagna per entrare più in contatto ti piace qua vicino all'orecchio? ti piace qua vicino all'orecchio? facciamo anche di qua ovviamente però ad esempio parlando di stare nel momento quando sono a fare sci o a correre o quando mi alleno non riesco a immergermi del tutto mentre quando dipingo quando suono quando disegno sono totalmente immersa nel momento facciamo vicino all'orecchio anche e poi ancora un pochino qua certo vedo che hai un faccino un po' più rilassato sono contenta allora beh i capelli te li lascio così sì tanto vai a dormire infatti e allora gioia io mi auguro veramente di di averti aiutato almeno un pochino meno male e ovviamente stasera dormi qua da me e così domani se stai ancora male ma secondo me no posso prendermi cura di te anche domani e allora mi raccomando devi solamente pensare al riposo pensa a fare un bel 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 sonno lungo profondo rigenerante e vedrai che domani ti svegli sarai una bomba ok magari una bomba no però sicuramente il dolore sarà passato vedrai ok e poi se ti torna un po' l'appetito ti faccio una colazione top con pancake mh avena mh spremuta d'arancia macedonia ehm tutto quello che vuoi ok allora se hai bisogno di qualcosa basta che mi chiami io vado di là e ti lascio riposare ok ti lascio anche qui il panno umido e poi l'acqua e se vuoi sgranocchiare ancora qualcosa ti lascio tutto qui ok mi raccomando eh riposati ti do un bacino e poi vado ciao fammi sapere se hai bisogno buon riposo prima tue un vado 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 ti vado Grazie.